L'insediamento ufficiale del quale abbiamo dato notizia negli scorsi giorni è stato solo il preludio all'avvio di un'attività complessa e analitica che condurrà la commissione straordinaria di liquidazione a ricostruire le passività del municipio al contempo la massa attiva così da avere un quadro chiaro della situazione finanziaria dell'ente. Il dissesto è stato dichiarato lo scorso anno innanzi ad una mole di disavanzo da circa 180 milioni di euro. I componenti della commissione straordinaria incaricati con provvedimento alla presidenza della Repubblica hanno dettato il loro piano di lavoro. La commissione sarà preseduta al funzionario economico finanziario Carmelo Fontana ed è composta dal dottore commercialista Giuseppe Gervasi e dal segretario comunale Giovanni Impastato. È già stata formalizzata la richiesta di acquisizione degli atti necessari a ricostruire lo stato finanziario dell'ente fino al 2021. Tra i documenti che dovrebbero essere trasmessi entro fine giugno oltre alla dichiarazione di dissesto c'è l'elencazione analitica dei residui attivi e passivi oltre agli atti finanziari approvati. Al contempo rapportandosi con il segretario generale Carolina Ferro e con la dirigente al bilancio Maria Bonfirraro la commissione ha stilato l'avviso rivolto a tutti i creditori del municipio qualora vantassero titoli fino appunto al 2021. Hanno tempo per indicarli con un'apposita richiesta entro il prossimo 26 luglio. Gli atti già sottoscritti dai componenti alla commissione saranno da subito trasmessi alle autorità comprese la corte dei conti e la tribunale. C'è già stato un incontro con i componenti della commissione lo spiega l'assessore al bilancio Maria Angela Faraci. La prossima settimana sono previste ulteriori riunioni anche in presenza dei revisori dell'ente. È inevitabile che una delle prime fermate per chi si insedierà in municipio subito dopo l'elezione in inizio giugno sia proprio la commissione straordinaria di liquidazione.